Se dovessi dare un livello di importanza ai progetti scuola ABC direi fondamentali, fondamentali perché in assoluto portano la scuola fuori dalla scuola, sia come luogo fisico ma come luogo mentale ormai oggi necessario. Pensare alla scuola solo nell'istituto scolastico oggi in questa società così fluida, così digitale, così in mutamento, è inconcepibile. La scuola ormai si fonde, si deve fondere con la vita normale, quotidiana, non può essere uno spazio chiuso temporalmente e fisicamente. I progetti scuola ABC già da tempo fanno questo, portano delle idee scolastiche di insegnamento fuori dagli ambiti normali, li portano dentro il fumetto, dentro il cinema d'animazione, dentro la street art, ambiti che di solito sono poco valorizzati, se non addirittura vilipesi, addirittura vengono mal pensati in alcuni ambiti, invece il progetto scuola ABC li valorizza. E questo è da appassionato, prima ancora che da detti ai lavori, è veramente affascinante e importante. L'incontro di oggi si è svolto in remoto con gli ospiti, la maggior parte degli ospiti da casa, ma questo forse nell'epoca contemporanea è anche un punto di forza. Si possiamo raggiungere tante persone, alcune addirittura uno era in macchina, in movimento, non abbiamo limiti di tempo e di spazio e ormai i ragazzi con il digitale sono più che nativi, insomma è quasi la seconda generazione nativa digitale, ci sono pienamente dentro. Quindi questo non lo vedo come un limite, anzi lo vedo come un punto di forza, come questo messaggio che chiaramente state vedendo sui social. Quindi è importante la carne, è importante l'umanità, vediamoci per le strade, ma anche parlare, discutere, ragionare, incontrarci, progettare come progetti scuola ABC sui social, sui digital, comunque è una grande iniziativa.